Musica Benvenuti e ben ritrovati in DL Auto, Borga Rottenese via Garibaldi 22. Spero abbiate passato delle belle vacanze, compatibilmente con il momento naturalmente. Adesso ci ritroviamo di nuovo in azienda per visionare i nuovi arrivi, ce ne sono molti, sia usato che nuovo. Andiamo ancora a illustrare quello che è la campagna rottamazione, i contributi statali, anche qui ci sono moltissime novità. Venite con me, seguitemi in questo breve ma intenso viaggio. E partiamo subito con Dacia Sandero. Dacia Sandero è il piccolo SUV di casa Dacia, tutto accessoriato, il Tech Road piuttosto che la Stepway, piuttosto che la quindicesimo anniversario. Per poi proseguire con Dacia Logan, la Station Wagon, anche qui diversi colori, diversi allestimenti e diverse motorizzazioni. Tutte godono di contributo statale di rottamazione, molto molto importante. Veniteci a trovare per scoprire le numerose offerte. Dacia Duster, quindi il SUV di casa Dacia. Anche questo gode dell'incentivo statale di rottamazione, oltre 2.000 euro di sconto dal prezzo di listino, tutti i nostri servizi. Veniteci a trovare. Il marchio Dacia vi offre unumerevoli possibilità di scelta, dal SUV al crossover a prezzi imbattibili. Veniteci a trovare. Ovviamente DL Auto è anche marchio Renault. Renault con tutte le sue Clio, tutta la gamma di Clio, a partire dall'allestimento Life, diesel, benzina e GPL, fino all'allestimento Intense, che vi dà il top di gamma. Anche queste vetture godono dell'incentivo statale, molto molto importante, che ci dà la possibilità di risparmiare oltre 5.000 euro dal prezzo di listino per quanto riguarda il marchio Renault. Ovviamente senza tralasciare e senza dimenticare Captur. Anche Captur gode dell'incentivo statale. Rottamazione in DL Auto possiamo anche applicarvi uno sconto molto importante se non avete rottamazione statale, attraverso la supervalutazione del vostro usato. Quindi Captur bicolore, Cajar in tutti gli allestimenti, in tutte le motorizzazioni. Il Cajar, anche il Cajar, quindi in DL Auto, gode dell'incentivo statale della rottamazione. Veniteci a trovare. Via Garibaldi 22, Borgaro Torinese, DL Auto. In DL Auto non c'è solo nuovo, ma ovviamente anche veicoli usati. Veicoli usati di tutti i modelli, di tutte le case, come per esempio Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia, addirittura una Stelvio, passando per i marchi un pochino più prestigiosi tipo BMW. Ovviamente tutto l'usato è interamente finanziabile, fino a 96 mesi, senza anticipo. Applichiamo, ed è una cosa che facciamo solo noi in DL Auto, applichiamo la rottamazione anche per i veicoli usati. Quindi veniteci a trovare per scoprire tutto il nostro parco usato, che è veramente, veramente prestigioso. Tutto a prezzi imbattibili. DL Auto, Borgaro Torinese, Via Garibaldi 22. Volevo soffermarmi un attimino sui nuovi arrivi dell'usato in DL Auto. Per esempio questo aziendale, questo Qashqai aziendale, full optional, con 3.000 km, pensate, un aziendale Nissan con 3.000 km, full optional, a soli 20.450 euro, interamente finanziabile, passando per il marchio Jeep, da Renegade alla Compass, al Gran Cherokee, sono tutte vetture, tutto usato, garantito, in 24 mesi, interamente finanziabili, dove possiamo tranquillamente applicare il contributo DL Auto di rottamazione pari a quello statale, anche sull'usato. Veniteci a trovare, Via Garibaldi 22, Borgaro Torinese. In DL Auto proseguiamo il viaggio, 500, 500 cabrio coupé, bellissima, 11.450 euro, proseguiamo con una 500 pop a 9.000 euro, ovviamente sono tutte vetture anche qui, interamente finanziabili con assicurazione furto incendio, cristalli grandi, nati vandalici, eccetera, senza assolutamente nulla di anticipo, dove possiamo applicare la rottamazione statale. Grande punto a 3.600 euro, la Panda 7.700, insomma abbiamo un pochino tutte le vetture per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Come sempre veniteci solo a trovare, per toccare con mano effettivamente la qualità del nostro parco usato. E continuiamo con Renault, le due Renault Twingo usate, ma usate recentissime, del 2019 a 8.000 euro, intorno agli 8.000 euro, tutte accessoriate, interamente finanziabili, per passare poi a una Panda decisamente economica, intorno ai 3.000 euro, e per finire con una Panda 4x4, bellissima, veramente, veramente molto, molto bella, una 4x4 tutta accessoriata a 4.900 euro. Veniteci a trovare a Borgaro Torinese. DL Auto ovviamente anche veicoli commerciali per il lavoro, anche su Dacia Docker oppure Renault Kangoo abbiamo il contributo statale della rottamazione più la detrazione del 110%. Veniteci a trovare, anticipo zero, tutti i servizi, tutta la manutenzione per il vostro veicolo commerciale, da lavoro, qui in DL Auto. C'è la possibilità di avere il Kangoo Maxi, quindi per chi ha delle esigenze di portata maggiore, oppure passare alla Dacia Docker, anche qui tutto accessoriato, con navigatore e sensori di parcheggio, interamente finanziabile, fino a 60 mesi, con tutti i servizi inclusi, all'interno della rata che decideremo poi insieme, in base alle vostre esigenze. DL Auto, veicoli commerciali. Veniteci a trovare a Borgaro Torinese. Dopo aver visionato tutte le nostre offerte, sia del nuovo che dell'usato, andiamo all'interno dello showroom per i saluti finali. Ben ritrovati, amici, all'interno dello showroom di DL Auto di Borgaro Torinese. Voglio salutarvi con due nuovi arrivi, due chicche, due vetture veramente, veramente prestigiose. Partiamo dalla Jeep Wrangler, che è un 2002 di cilindrata, un multijet allestimento Sport. Questa vettura ha percorso solo 17.700 km, anno 2019, anche su questa vettura, incredibile ma vero, applichiamo la rottamazione statale, è data a un prezzo eccezionale, solo 42.900 euro. Per passare poi all'altra di casa Volkswagen, una Golf 1500, allestimento business, benzina e metano. Pensate, questa vettura, doppia alimentazione, chilometro zero del 2020, soltanto 22.800 euro la vettura, è interamente finanziabile, anche questa gode dell'incentivo statale. Veniteci a trovare a Borgaro Torinese, in via Garibaldi 22. E con questo si conclude il viaggio all'interno di DL Auto, come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.